questa settimana credo di non aver mangiato pizza ma ho mangiato molto sushi il che mi porta alla conclusione che il sushi è pizza anche il sushi può essere pizza esattamente come il pollo e il minestrone non mi ricordo più esattamente cosa fosse cosa hai elencato le cose giuste tutto è pizza se ci credi con tutto il cuore il tuo cuore può essere pizza se ci credi con tutto il cuore anche il sushi a partire da oggi nuovo canone di power pizza assolutamente bentornati su power pizza e sto parlando sia voi che state ascoltando sia che i miei meravigliosi co-host nicola brinari e simone albrigi come state ragazzo ciao sto bene sono appena tornato da parigi grande io sono stato a casa con i miei figli invece i denti di theft is not a joke cosa sta succedendo nick come è andata la tua vacanza di non venire qui a casa mia a darmi gli abbraccini allora premesso c'era una quantità veramente bassa di darti gli abbraccini quindi male però pari c'è très jolie è molto carina mi piace e ho detto incroyable un sacco di volte cosa vuol dire un cibo con tutti i parigini che lo guardavano malissimo o no c'è ancora quel tizio pelato che dice incroyable e eravamo effettivamente tipo quei turisti che dicono delle parole francesi disate a caso molto ridere mi sono divertito ho visto tantissima arte mi è cambiata la vita ho mangiato un sacco di croissant vegani e niente sono molto felice si mai mangiato della pizza era la domanda di partenza ieri sera tornato a casa e ho fatto un esperimento perché martina mi ha detto che dovrei essere messo davanti al tribunale della pizza per questa cosa ma ho preso una classica pizza con la zucchini soup eccetera eccetera e poi ho detto ma sai cosa ci starebbe bene del peperoncino un po croccante io ho preso il laoganma e glielo ho messo sopra ma ci stava da dio certo che è il problema il laoganma ci sta anche con la frutta cioè nella macedonia cioè nel laoganma diventa automaticamente migliore quindi non stento a crederlo diventa laogan macedonia è vero io io ho mangiato non del laoganma ma del peperoncino un'ora fa perché ho fatto la seconda colazione scongelando mezza pizza di quella che mi hanno regalato un giorno a una fiera di padova o bologna non mi ricordo aspetta una fiera sì un fan mi ha detto c'è ecco la pizza e io ho detto grazie ma sto lavorando e quindi me la sono portata a casa l'ho messa in freezer e l'ho scongelata prima e l'ho mangiata come seconda colazione e solo che era una margherita e quindi per dargli un po di spiciness gli ho messo della spiciness un kick e le ho dato un calcio esatto un po di spiciness non farebbe neanche male ai grissini che sono crunchy e tasty ma non sono piccantini tipo il primo di oggi che è di biancaneve e i sette cani che ci scrive e fu così che l'orro fu tradito dalla illumination per non aver messo una scena del pinguino buttato nel vuoto nel film di mario io ero già medio interessato al film di mario dopo aver appreso questa notizia mi spiace credo che non lo guarderò mai mai nella vita l'orro ha deciso che cancels super mario sempre in compenso puoi guardarti il video di super mario 64 in cui mario butta giù un pinguino ma doveva esserci nel film in compenso puoi anche guardarti la versione tratta con cioè con le immagini del nintendo 64 del video musicale di peaches 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 che è la canzone più bella di questo film è veramente media quella canzone io non ho visto il film lo continuo a ripetere ma lo sapete già ho visto solo il video su youtube e ho detto wow che canzone medissima era un bel momento nel film perché il film era ok e poi jack black che canta improvvisamente non te lo aspetti e dici ok ok fico va detto che tipo il video l'hanno chiaramente girato in una mattina c'è un making of fanno vedere che l'hanno girato in un attimo tipo nel backstage del set del del film hanno fatto una roba proprio così anche perché il regista del film è famoso per i videoclip musicali quindi c'è questa cosa in più che in cinque minuti giriamo un video di questa canzone e tra l'altro scusate non c'entra niente ma ho visto un'intervista a jack black che gli chiedono come fai avere tutte queste energie a 52 anni e lui dice è semplice ho queste energie solo quando sto girando nel resto del tempo sto fermo tutto il tempo e risparmio l'energia e matteo brivio ci lascia un commento grissino lunghissimo su super mario in cui dice delle cose non sono importanti non sono interessanti un sacco di cose però scherzo però dice delle cose interessanti alla fine del grissino dicendo ok illumination ha fatto delle porcate con le canzoni pop ma brian tyler ha fatto un lavoro stupendo con la colonna sonora ed è il 95 per cento della musica del film e sì la colonna sonora non è al livello del resto del film è incredibile fantastica citazioni da tutte le parti che però ci stanno bene nel film nel mood in tutto la colonna sonora non l'ho detto è fantastica e ripeto il film non mi è dispiaciuto la gente crede che siccome l'ho criticato tantissimo la scorsa volta ma che schifo no cioè mi sono divertito solo una domanda non avete intenzione di parlare ulteriormente del film di sonora a parte dopo in realtà sì solo per un secondo sì ho una domanda doppiaggio italiano tu sei andato a vendermi italiano dopo che abbiamo registrato l'ultima puntata si regge allora alcune cose si perdono però non è adattato male per niente l'unica cosa che mi dispiaceva molto era la mancanza di jack black tutto il resto bene molto bene poi nella lingua originale di mario ma quindi mastandrea come mario c'è promosso o non male ok fantastico c'è non a livello di chris pratt ma non è mastandrea è santa maria ah va beh era sempre un cognome composto da due pezzi verissimo è il nostro batman nazionale sì sono sempre romani nella mia testa sono sovrapponibili daniele fabri mastandrea sono la stessa persona whatever babbea ci scrive comunque sì tu che sei contro dire www ma nella sigla dici www dot un podcast veramente bellissimo guarda ve lo consiglio proprio punto com è un sacco di emoji degli occhi inquisitori che ti guardano per la tua allora allora lasciatemi spiegare è ovviamente una licenza artistica che fa ridere proprio perché c'è il www ma non andrebbe detto il www anche la nostra tutte le volte esatto uguale quindi taci da qui all'eternità allora provo anche le vostre stupide idee mike saip come un sacco di altre persone in realtà sia su spreaker che su youtube ci scrive ma quindi quando è che inizierete a pubblicare le puntate video anche su spotify ecco allora psa non stiamo pubblicando le puntate video su spotify perché abbiamo dei problemi dato che le puntate che trovate su spotify in realtà arrivano da spreaker se dovessimo iniziare a pubblicare la puntata video su spotify è un casino perché praticamente trovereste due feed diversi e quindi ci perderemo delle cose per strada dovremmo abbandonare spreaker per andare su spotify un macello quindi al momento non stiamo facendo niente stiamo cercando soluzioni stiamo esplorando ma al momento è un casino grazie dell'interessamento prossimamente spero se riusciamo a districarci in questa cosa non preoccupatevi comunque potete scaricarle da winmx illegalmente Alex Olgiati ci dice scusate ma perché si chiama caccia torpediniere se sta nel mare si deve chiamare pesca torpediniere mi ha fatto molto ridere ecco un bollino pizzino Alex generatore infinito di memi con la nostra faccia thank you for your service ultimo grissino della puntata è quello di leggo le pere io sono ubriaco con la propic di nick all'università col taglio super nazi la mia foto preferita di nick sempre nei secoli dei secoli mamma mia che reminder di quanto avanti sono arrivato nella vita saluti dalla riunione del consiglio d'amministrazione della regione lombardia spero che sia vero questo è il grissino ah questo era il grissino perché ogni tanto tornano queste cose quindi saluti al consiglio d'amministrazione della regione lombardia grazie nick spiegami una cosa qual è il tuo criterio per scegliere i commenti da leggere cioè più sono incomprensibili e più ti piacciono allora il criterio è molto semplice quando scorro i grissini un secondo prima dell'inizio della puntata ovvio ovvio chiaro quello è il tempo allocato alla lettura dei grissini quando li guardo quelli che mi fanno fare li scelgo a fine della questione e tra l'altro non è che li scegli i primi che ti fanno fare li scegli e non è che poi scegli tutti quelli che ti hanno fatto fare e quelli che ti hanno fatto fare di più tu pensi che sia così ma in realtà tipo leggo le pere io sono ubriaco era l'ultimo grissino della puntata nuova cioè il primo tecnicamente il primo uscito però lo leggo per ultimo chiaro 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 me news grazie per esservi dilungati su questa cosa su me news allora stranamente oggi ho delle me news ne ho addirittura due la prima della quale alcuni si ti hanno riportato che sapete che c'è in corso un in cantiere un live action di one piece che sarà una serie ogni volta sono stupito esatto ogni volta che sento questa notizia meno dimentico di continuo same same e pare che i primi prendete con le molle questa informazione ma pare che i primi test screening già i test screening secondo me sono una cosa che non dovrebbe esistere però esistono e pare che i primi siano stati disastrosi nel senso che tipo brutta CCI pacing orrendo la storia affrettata è priva di senso e io dico allora non possiamo saperlo finché effettivamente la serie non uscirà ma vi prego smettetela di cercare di fare live action degli anime perché se già non ci riuscite con delle cose facilmente trasponibili tipo Death Note che sono degli esseri umani che indagano e fanno trame pazze cioè farlo con One Piece che è una cosa cioè stilisticamente proprio iper cartonesca come cazzo potete pensare che venga bene poi oh se la storia mi darà torto e uscirà una serie fantastica io sarò solo che contento fino a quel punto sarò fortemente scettico e queste news non fanno che confermare la mia scetticezza tra l'altro piccola domanda perché non mi ricordo piccola domanda perché non mi ricordo ma è una serie o un film? una serie una serie è una serie peggio ok sì scusa è solo effettivamente che hai detto serie non abbastanza volte ma solo una o due in queste frasi Nick sarà già dissociatissimo e Nick ha detto ah sicuramente è un film e comunque posso dire una cosa come sono sorpreso è vero come sono sorpreso sì 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 poi tra l'altro se io ho detto Death Note ma anche Cowboy Bebop cioè nel senso dice ha un film di fantascienza praticamente che difficoltà ci sarà mai e puntualmente escono delle scoregge e puntualmente ci provano con qualcosa sempre più difficile da adattare in forma realistica con attori e attrici ma boh vediamo insomma è facile cioè è facile a parte il mostrino che boh puoi farlo anche disegnato volendo ma infatti chissene esatto ma il resto è un tizio che scrive su una scrivania e l'inquadratura di uno successo che muore comunque si ho appena risolto Death Note registicamente parlando eh sì 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 chiamatemi Netflix ma chiamami anche Nintendo e fammi provare prima di tutte le altre persone del mondo per piacere Zelda TikTok of the Wild intendi mecca Zelda e i giga robot io voglio una settimana di ferie per giocare a quel gioco quando esce sono solo felice è uscito l'ultimo trailer e 6-10 minuti di gameplay ci hanno fatto vedere delle cose che wow meccaniche incredibili ma il mondo sembra vuotino che è lo stesso errore che abbiamo fatto con il primo Breath of the Wild è vero tra l'altro esatto adesso ci hanno fatto vedere un trailer che ok c'è tutto c'è sottoterra ci sono i robottoni ci sono altri personaggi che combattono insieme a te meccaniche infinite sì comunque personalmente la cosa dei robot è quella che mi ha blowato completamente il cervello perché dopo il video di gameplay in cui facevano vedere che potevi appiccicare le cose insieme la domanda a che è venuta in testa a chiunque è stata ok ma quanto sono complesse le cose che puoi costruire a quanto pare molto dato che in questo trailer si vede dei nemici sopra un golem tipo e Link che arriva con una macchina tipo un robottone palesemente costruito quindi vuol dire che si possono costruire anche meccanismi complessi e questa cosa qua vuol dire potenzialità infinite perché se con Breath of the Wild ancora adesso vedo dei video di gente che fa delle cose che dico scusa come è possibile tu figurati con questi strumenti a disposizione cosa saranno in grado di fare le persone wow ma infatti devo dire che parte di me cioè si è super entusiasta per giocare a questo gioco ma una parte della mia aspettativa è nelle persone pazze di youtube che si inventano delle cose completamente fuori dalla mia immaginazione e non vedo l'ora che succeda quello ho costruito minecraft dentro a zelda tiktok esatto esatto wow non vedo l'ora un emulatore di doom dentro zelda tiktok mi aspetto questo livello di follia come ultima me news allora non so se avete visto l'avete visto di sicuro è prevista una serie di harry potter si lo so sulla fiducia so che lo sapete uscirà una serie di harry potter per hbo max ah non si chiama bo max si chiama solo max adesso ah giusto si continuano a voler confondere il più possibile le persone aspetta che il riprending del prossimo anno sarà max plus fatto sta che su questa piattaforma appunto uscirà boh vai a sapere quando una serie di harry potter l'idea è di fare una stagione per ogni libro ora io parlo non da fan perché io i libri li ho letti quando uscivano già l'ultimo libro che è uscito quando avevo più o meno 20 anni me ne fregava già molto poco se non zero l'avevo letto l'avevo trovato molto medio da lì in poi il mio interesse era stato veramente ai minimi storici aggiungi che trovo disgustosa la sua autrice ma questo poi è un altro paio di amiche ok quello che però appunto mi interessa è jk rowling più che libro di harry potter in sé e come anche di recente quando era uscito il gioco Hogwarts Legacy tipo e c'erano stati un sacco di dibattiti appunto sulla sua figura le sue idee totalmente riprovevoli sempre mia opinione tutta una serie di cose sono d'accordo ok grazie anch'io moltissimo vi sto parlando di harry potter non tanto per appunto la serie della di max stavo per dire hbo max scusate in sé puoi abbreviarlo in massimo ma per consigliarvi in realtà un video di james somerton che non so se conoscete è uno youtuber che io apprezzo un saccone perché è uno che scrive bene le cose e che le ricerca molto bene proprio come facciamo noi ed è una sorta di video bignamino che ripercorre appunto un po' le tappe le posizioni di joan e arriva anche a una conclusione che ho trovato molto interessante il video si chiama The Real Hogwarts Legacy vi lasciamo un link nello scontrino e appunto diciamo che il riassunto di tutto questo video è il fatto che dice i boicottaggi come dopo l'uscita dell'ultimo gioco lasciano anche un po' il tempo che trovano nel senso che possono servire a esprimere solidarietà ma sappiamo che da un punto di vista economico servono a meno di zero cioè joan è mega ricca e lo rimarrà per sempre questa cosa mettiamocela via ma fa un discorso bello che onestamente io non avevo pensato cioè sul fatto di rendere irrilevante diciamo scritto tra virgolette Harry Potter da un punto di vista culturale in the long run cioè sostituendolo con altre cose che magari usciranno negli anni altri prodotti di intrattenimento che vadano a sostituire nell'immaginario collettivo quello che è Harry Potter ed è in quella maniera che tra virgolette ci si potrà un po' discostare e si potrà togliere in parte un po' di potere alla rolling da un punto di vista di piattaforma espresso così dice molto poco io vi consiglio il video perché è molto interessante detto questo se siete fan di Harry Potter buon per voi perché appunto in arrivo nei prossimi anni una serie lungona parlano addirittura di impegno decennale Warner quindi per dire speriamo che lo diano i sceneggiatori di Game of Thrones no sono impegnati a fare le cose di Chishin Liu comunque io volevo pubblicamente dire finalmente che se siete una delle 50 persone che ha comprato tutto Scottex numero 1 quando io andavo alle superiori e con la parodia di Harry Potter e la pietra fisiofocale per piacere perdonatemi non l'ho fatto apposta a quel tempo la Rowling mi sembrava una bella persona il tempo passa le cose cambiano non è un peccato penso che tu gli stessi chiedendo scusa per il contenuto del fumetto il primo tutto Scottex sì no perché il primo tutto Scottex è super transfobico misogino è terribile il CEO che tutti rimpiangiamo comunque di cosa cacchissimo volete parlare oggi cari amichetti del podcast delle armi e perché sia giusto avere le armi per difendersi e per attaccare che la miglior difesa è l'attacco allora di cosa cacchio stai parlando non so probabilmente ha visto Top Gun no no a parte che Top Gun io l'ho visto pensando fosse un film sulla migliore pistola e invece erano gli aerei super deluso Top Gun non usano mai la Gun un migliore pistola era l'amicizia no seriamente di cosa cacchio stai parlando ho visto John Wick cosa wait a second wow ho visto John Wick ma il 4 no appunto c'è John Wick 4 non esageriamo non posso andare al cinema troppe volte ci sono andato due volte questa settimana ed è stato tutte e due le volte per Mario John Wick 4 esiste ho detto ah so che John Wick 1 è un film clamoroso è uno dei miei film preferiti tra l'altro bellissimo è nel senso clamoroso bellissimo sento sempre la gente parlarne wow bang bang con le opinioni ho visto il primo John Wick innanzitutto mi sono divertito a parte quando muore il cane mi sono divertito no assolutamente trigger warning per questo film ve lo diciamo perché è la premessa praticamente del film muore un cane quindi sappiate questa cosa ecco se invece vi piace vedere che gli umani muoiano ah pensavo se vi piace vedere i cani che muoiono ma non l'ho detto ma perché sembrava che lo stessi ma non l'ho detto non puoi dire ah sembrava che la tua frase finisse con Hitler aveva ragione ma non l'ho detto comunque sia non ho moltissimo da dire in realtà cioè è un film d'azione e di fantascienza in cui il protagonista ha il superpotere di sparare ha un buon pacing ottimo Keanu Reeves è picco i nemici sono scritti bene le scene d'azione sono girate molto bene detto questo 6,66 fette di pizza diavola con i friarielli aspetta 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 affermo quanto avevi dato a Top Gun Maverick non lo so 7 forse t'ammazzo cosa cazzo stai parlando sei completamente rincretinito cosa stai dicendo io forse l'ho guardato per avere questa conversazione cioè non fraintendetemi è un film carino innanzitutto dura un'ora e 41 minuti che è poco più di un film molto bene bravi vero vero tutti i John Wick successivi durano tipo due ore e mezza e sono non sono neanche l'ombra del primo John Wick esatto quindi c'è il senso puoi anche non vederli ti sei visto il primo il tuo lavoro l'hai fatto no il mondo che crea per quanto appunto contenuto è suggestivo per carità cioè il fatto del Cosmopolitan con le sue regole le monete d'oro che sono le currency bellissimo le currency dei cattivi degli assassini la malavita organizzata per citare Batman del 66 la malavita organizzatissima organizzatissima però alla fine del film mi sono chiesto ho un problema con i film d'azione cioè ho visto uno che sparava fortissimo perché gli è morto il cane un sacco di gente cercava di ucciderlo ma lui riesce a sopravvivere spiegatemi perché questo film è bellissimo oddio non basta una puntata serve una speciale ti posso dire che allora fun fact che magari non sai il regista che hai visto creditato Chad Stahelsky in realtà non è il vero regista nel senso che è stato codiretta da due persone Chad Stahelsky e David Leitch quello che ha dato a questo film in suo cuore è David Leitch che poi è andato a dirigere infatti una copia a carbone di John Wick che è Atomic Blonde che speravo di poterti dire ah se ti è piaciuto molto questo film vai a vederti quello perché vale altrettanto ma dato che ti è piaciuto mediolino boh vedi tu se farlo però è un film con Charlize Theron con più o meno la stessa impronta ok David Leitch è un genio lui nasce come stuntman praticamente coordinatore degli stuntman quelli che fanno le coreografie e tutto quanto ha codiretto questo film se ne è tirato fuori Chad Stahelsky è andato avanti a dirigere i successivi due e tre quarto che sono delle fettecchie veramente notevoli perché manca l'originale fun fact perché il primo era codiretto da due è tutto vero però sì nel senso per me John Wick è uno di quei film che a livello di impatto è come il primo The Ride anzi The Ride 1 e 2 nel senso sono quei film che riscrivono un po' il genere è un film d'azione caffone che si può ridurre a tizi uccidono il cane si vendica uccidendo tutti assolutamente sì all'essenza è quello ma il fatto è che a livello di stile a livello di ritmo a livello di coreografie di idee a livello anche solo banalmente appunto della coolness che ci mettono dentro anche so che è un discorso brutto da fare ma anche a livello di soddisfazione di vedere il tizio vigliacco e sgradevole che viene inseguito dal tizio che tutti temono è bellissimo è un film che funziona incredibilmente con tutte le cose che vuole fare è semplice come film assolutamente sì ma c'è tutte le cose che mette in tavola sono perfette sono eseguite in una maniera magistrale tu calcola che se oggi noi parliamo di gun fu come stile di film d'azione viene da john wick è non proprio in realtà perché è gun fu che io ricordi forse il primo film da cui nasce è equilibrium con un giovanissimo cosa com'è che si chiama christian bale christian bale esatto però però si di sicuro john wick è uno degli esponenti maggiori del genere quando parliamo di gun fu è utilizzo di armi da fuoco ma a distanza ravvicinatissima e unita alle arti marziali quello stile di cui hanno farcito il film del sentire ciao sono nick non so parlare però del sentire i colpi quando li spara il fatto tipo di essere super a contatto ravvicinato come diceva lorro sparare c'è anche un movimento uno shake di camera rapidissimo nel momento in cui spara tutte le volte e senti l'impatto dei colpi sono tutta una serie di scelte incredibili che fino a quel momento non le avevamo praticamente mai visto oppure non le avevamo viste in un film così celebrato ed è una figata poi vabbè ha uno stile incredibile è stilosissimo sto film banalmente è quello ed è la cosa infatti patetica perché Chad Stahelsky nei successivi cerca di replicare la cosa ma non ha quel quid che ha David Leach non ha quell'occhio e quindi risulta un voler fare more of the same ma perde quella coolness e sembra semplicemente una mezza pagliacciata quando il primo è stilosissimo dall'inizio alla fine cioè wow aggiungerò una cosa poi possiamo tornare alla tua recensione Sio scusa Sio ti abbiamo hai geccato no no io vi ho detto che avevo tante cose da dire che non era vero perché volevo avere questa conversazione in realtà non l'hai neanche visto no no l'ho visto e quello che volevo dire è che ad esempio il 2 e il 3 il 4 non l'ho ancora visto ma mancano completamente l'obiettivo che invece era preso in pieno nel primo perché si focalizzano sulla complessità e la lunghezza delle scene d'azione cosa che invece nel senso nel primo John Wick si sono lunghe sono complesse ma non sono strascicate soprattutto nel terzo c'è una scena che secondo me dura 20 minuti hai il fiatone da scena d'azione che non ce la fai più a seguire coreografia su coreografia su coreografia su coreografia ci sono i cani che arrivano che fanno cioè è un casino mentre nel terzo ci sono dei cani ci sono dei cani che ti è taretra è vero è giusto comunque il problema è proprio che David Leach riesce a fare una cosa che è difficilissima lui riesce a camminare in bilico e a costruire delle cose che sono ovviamente irrealistiche perché tanto John Wick quanto Atomic Blonde tanto Keanu Reeves quanto Charlize Theron non sono degli esseri umani perché se ti prendi quella quantità di botte se fai quella quantità di azione muori stecchita a un certo punto quindi stiamo parlando sì esatto stiamo parlando di una cosa irrealistica ma riesce a dargli un peso quasi verosimile nel senso che è ovvio che non è realistica la cosa ma tu in Atomic Blonde e in John Wick senti il peso di quelle botte che il protagonista o la protagonista si prendono nell'arco del film quindi non è semplicemente che si rialzano sempre belli e felici no più il film va avanti più sono malconci e presi malissimo perché subiscono la qualsiasi nel secondo nel terzo è semplicemente gli sparano in faccia ma non gli succede niente perché è il plot armor aveva preso il bullet con i denti sì cioè proprio sono sfumature però fanno tanto cioè la differenza si nota tanto alla fine ma infatti cioè il feeling e il pacing mi sono piaciuti moltissimo forse il mio problema è che non riesco a vedere un film in una seduta sola e quindi mi dimentico dei pezzi e quindi l'ho visto in quattro momenti diversi a volte con bambini addosso che stanno dormendo e quindi sicuramente la mia visione è stata influenzata da questa cosa hanno inventato le serie per questa ragione qua e lo so ma ti puoi guardare dei piccoli io ogni notte voglio vederlo un film e comunque sia io gli do anche un sette fette di pizza di diavolo grazie grazie no perché comunque già tendeva verso quasi al sette però mi avete convinto e soprattutto grazie perché mi avete fatto rivedere alcune cose con un occhio un po' più ok sto pensando a questo film a posto di pensare a questo film insieme a mille altre cose tipo non svegliare mio figlio e quindi mi è proprio piaciuto dieci fette di pizza John Wick io le accetto però mi sembra lì insincero però ok non importa le prende se le merita sinceramente però per concludere questo spezzettino John Wick è un film a cui io darei dieci fette di pizza perché per quello che è lo trovo un film perfetto sì io non arrivo a dieci ma un nove pienissime senza alcun dubbio ok io invece appunto forse ho anche un problema con i film d'azione può essere non empatizzo abbastanza cioè mi faceva abbastanza ridere John Wick perché diceva ci sta ci sta è la reazione che avrebbe mia madre di dire è una balussata è una pagliacciata sì no cioè sono tipo da metà in poi continuavo a dire sì vabbè cioè mi guardavo io e i miei compagni è un po' l'equivalente di One Punch Man nel mondo reale con le pistole cioè nel senso che è l'assassino perfetto che uccide tutti però con quella grittiness però senza la plot armor nel senso che si piglia le botte è vero e comunque non potete dirmi che sono un fanboy di David Leach perché nel senso sei un fanboy di David Leach ti ho appena detto che non puoi farlo perché ho provato a guardarmi Bullet Train dopo che degli amici delle amiche me l'avevano consigliato è sempre suo ho dovuto mollare dopo mezz'ora cioè l'ho trovato onestamente una fregnaccia nel senso che questa cosa dei dialoghi veloci cioè sembra David Leach che si sia visto un film di Tarantino e uno di Guy Ricci e ha detto anch'io farò dialoghi veloci e l'ho trovato patetico rispetto lui funziona bene con l'azione gira bene l'azione non c'è niente da fare riesce a dare un peso a questa cosa ma infatti deve fare il suo c'è solo quello in John Wick e te lo fa bene sì sì bravi otto fette di pizza a questo punto continua a cambiare se parliamo ancora un po' di questo film sale il voto comunque persone guardatevi il primo John Wick e The Ride 1 e 2 perché cioè con questi tre film praticamente costruite la libreria di film d'azione rivoluzionari degli ultimi dieci anni tra l'altro riferito a quello che dicevi io prima può essere anche che effettivamente una persona che ha visto tanti film d'azioni vede questi film e li consideri non so come dire un raggiungere un apice un modernizzare nella maniera giusta un genere una persona che magari non ha seguito tanto questo questa micchia esatto cioè dice ah ok bello però stica onestamente diciamo io dei film d'azione ho visto The Protector e i primi Star Wars quindi ok sono dei film d'azione giustamente vabbè comunque Nick allora sì sì io voglio fare un segue annunciando dicendo parlare di film d'azione sai dov'è che non ti aspetti l'azione in un biopic sulla storia di come Tetris ha ottenuto la licenza per essere venduto insieme al Game Boy non me lo aspetto tanto è vero però c'è dell'azione se vi ricordate nella scorsa puntata avevo detto che non avrei ascoltato i pareri delle persone che ci commentavano 100% delle persone che dicevano che questo film fa schifo Nick è uno spirito libero io sono uno spirito libero ma fondamentalmente mi sono guardato Tetris e soprattutto cosa molto importante l'ho guardato in aereo sul cellulare perché io Apple TV Plus è molto importante questa cosa ci ritorneremo ve lo prometto ok vai avendo Apple TV Plus cioè l'account di Apple TV Plus ho semplicemente detto di va me lo scarico così in aereo mentre ero in modalità aereo come le persone coscienziose e che rispettano le regole quando vogliono bravo io non metto mai la modalità in aereo se non sono su un aereo dannati poteri forti che vogliono farmi mettere in modalità aereo ma semplicemente me lo sono guardato me lo sono goduto è un film che dura meno di due ore non mi ricordo adesso a memoria esattamente quanto e nulla è un film ispirato alla storia vera di come Hank Rogers è andato in Russia nel 1988 dietro la cortina di ferro in un momento in cui da americano in Russia non eri ben visto ma proprio per niente dove nel senso c'era l'URSS e il comunismo potente e Gorbachev eccetera eccetera per cercare di prendere e di portare in America e in Giappone per la sua software house e poi di conseguenza vendere a Nintendo i diritti per un gioco un gioco inventato da Alexei Pajitnov che è questo programmatore in Russia e semplicemente aveva inventato questo gioco che era riuscito ad arrivare oltre la Russia era arrivato in America con delle licenze abbastanza farlocche e questo Hank Rogers decide di cercare di andare a prendere i diritti e di scommettere tutta la sua software house e tutta la sua vita in Giappone con la sua moglie giapponese e i suoi figli e le sue figlie eccetera eccetera mettendo nel classico stile americano everything on the line per riuscire a prendere questa licenza proprio come a Las Vegas sì ma infatti io il film non l'ho visto ma cioè leggetevi anche solo su Wikipedia la storia di Alexei Pajitnov perché c'è nel senso come è nato Tetris e poi tutto il successivo gioco di licenze è una roba completamente folle quindi merita allora Apple TV Plus decide di produrre un film su questa cosa ci mette Taron Egerton come Hank Rogers che è perfetto io adoro quell'uomo dannazione è perfetto e dato che nel senso nello schermo stavo dicendo sullo schermo ma nello schermo costantemente regge benissimo cioè è proprio un piacere guardarlo recitare e guardarlo essere Hank Rogers quindi giustissimo che appunto va dietro la cortina di ferro e fa delle cose che oggi sono equiparabili a andare nella Corea del Nord ed entrare all'interno di un ministero per parlare con un tizio e dire per favore dammi i diritti di portare questa cosa in America cioè quando sono andato a leggermi stamattina degli articoli scritti da Hank Rogers da Alexei Pajitnov da Maya Rogers che è la figlia di Hank Rogers che adesso è la CEO della Tetris Company perché loro poi i due insieme hanno fondato la Tetris Company loro raccontano di come ovviamente sia stato romanzato e sia stato hollywoodianizzato ok chiaro chiaro c'è un seguimento in macchina che non è mai ovviamente successo c'è della gente che si mena che non è mai ovviamente successo ma raccontano di come assolutamente sono stati fedeli alla storia della parte burocratica della parte della tensione che c'era in quel momento in Russia e della parte emotiva di quello che loro due hanno vissuto in quegli anni tanto che se stiamo a guardare loro sono i produttori loro tre sono i produttori del film sicuramente ce ne sono altri però è fatto letteralmente sotto i loro occhi tra l'altro alla fine ci sono anche le classiche foto di oggi Hank Rogers e Alex Hayes hanno fatto questo quest'altro tizio sta facendo questo è tutto molto bello e devo dire mega carino registicamente funziona belle scelte estetiche mi ricorda tantissimo non so se vi ricordate che io a un certo punto ero andato fuori di testa per un documentario su Netflix che si chiamava Ice Core me lo ricordo che era sulla storia dei videogiochi che aveva tutte diciamo delle cazzine in mezzo fatte in pixel art ce l'ho ce l'ho ok esatto anche in questo film ci sono tutta una serie di title card dei vari posti in cui si spostano dei vari momenti eccetera con diciamo una grafica pixelata 8 bit eccetera sono delle cose carine quello che voglio dire però in soldoni e lì torniamo a guardarlo su un telefono su un aereo è un film che riesce dall'inizio alla fine a tenerti molto intrattenuto ed è proprio cioè non riesco a trovare una parola migliore di è proprio piacevole a tutto il tempo cioè quindi stai dicendo che Ter sta sbagliato sì sono parole grosse le tue e anche le altre persone che me l'hanno sconsigliato sì allora è proprio piacevole tutto il tempo all'inizio corre un pochino di più ti fa vedere tipo delle scene appunto di questa persona che è classico spirito statunitense vuole provare il tutto per tutto che viaggia che fa che non prende no come risposta eccetera verso la seconda metà del film diventa tipo uno spy movie con tutti degli intrighi legati appunto al licensing di questa cosa e di come la Russia stava cercando di mantenere da un certo punto di vista un certo tipo di potere e dall'altro si stava già aprendo un po' all'idea di capitalismo e quindi i soldi avevano un certo potere che prima non avrebbero avuto cioè è proprio carino cioè mi è piaciuto e ti dico avrei fatto la coda per andarlo a vedere al cinema e lo riguarderei una seconda volta al cinema no visto come mi devo intrattenere un paio d'ore con un film girato bene con un attore che mi piace c'è una storia che comunque mi mantiene interessato pollicioni alzatoni ma no fette di pizza cosa pollici ma cos'è sto voto disse quello che aveva cambiato il suo voto 85 volte in due minuti c'è un week nove fette di pizza sono proprio otto fette e mezzo di pizza con i pollici alzati sopra sono schifo cioè nel senso inizialmente dovevano essere otto fette e mezzo di pizza con il borscht otto e mezzo wow ma è proprio carino madonna no allora scusate disclaimer io avevo detto terst aveva torto non per tipo essere un dissing gratuito verso terst anche se ma perché io mi trovo adesso in un conundrum ovvero da una parte c'è il mio migliore amico a cui voglio bene ma di cui mi fido solo saltuariamente e dall'altra parte terst che è l'unico che sull'essere un puntiglioso rompicoglioni mi batte è l'unica persona che diceva è un film sbagliato io adesso sono la meta perché dico dannazione non l'ho visto di chi mi devo fidare adesso devi vederlo esatto immediatamente dopo questa esatto quindi dato che io io sono influenzabilissimo da tutto ok ho guardato anche questo film con il pensiero di chissà che cos'è che non è piaciuto a queste persone che non è cioè a cui non è piaciuto perché non lo so forse non gli piace Tetris forse odiano Tetris tra l'altro apro chiudo parentesi mamma mia lavoro sulla colonna sonora bellissimo perché non c'è mai la vera colonna sonora di Tetris ma ci sono varie vari momenti ispirati a con quel motivo però rimaneggiato quale vera colonna sonora intendi perché la gente quando dice la vera colonna sonora di Tetris intende una delle due canzoni che c'erano sulla versione per Game Boy sì esatto quella che mi viene in mente se penso a te se faccio è una delle due versioni che però per la prima volta c'è stata sulla versione proprio per Game Boy tra l'altro è incredibile perché in questo film viene fatto vedere il primo prototipo di Game Boy nella storia e quindi ci sono capisci da appassionato di videogiochi vedo quel momento dicendo tipo oh mio dio loro non sapevano che cosa avevano in mano quanto avrebbe cambiato tutto è tutto molto carino è tutto molto piacevole ricollegandomi a quello che dicevo prima mi sono chiesto quali fossero i motivi per cui ad alcune persone non fosse piaciuto e non so bene cioè non lo trovo un film che ha dei momenti talmente forti da dire eh questa cosa proprio no tra l'altro evita in maniera abbastanza agile anche un po' dei cliché che nel senso quando tu li vedi dici ah ok questa scena vuol dire questa cosa poi non vuol dire quello sembra proprio un bel film c'è una scena all'inizio per darvi un esempio dove Hank parla con un banchiere gli racconta la storia di come è incappato in questa storia di Tetris e di come ha bisogno di un prestito per poter fare licensing eccetera eccetera e a un certo punto il banchiere dice tipo ma sei sicuro di questa cosa stai mettendo tutta cioè stai ipotecando la tua casa la tua azienda i tuoi figli no ma tua moglie è consapevole di questa cosa e lui dice senza batterci io certo mia moglie sa tutto lei è la nostra tipo persona dei soldi dell'azienda assolutamente le ho detto tutto e tu immagini ah ecco il momento in cui va a casa e tipo lei non sa niente e inizia una storia di ah devo andare a fare sta cosa ma lei non ne ha conoscenza scopre no no la scena dopo sono loro due che parlano e lei dice sì sì certo sono con te e tu dici ah ok e tutti questi cliché vengono evitati quindi dico ma per me ci sta evviva ma evviva cosa i videogiochi o i film evviva le serie in questo caso specifico o più precisamente le docu serie perché io ho solo un veloce loro up su Vanna la serie di cui aveva parlato Nick è la docu serie su Vanna Marchi me la sono recuperata sono solo quattro episodi quindi nel senso è una cosa abbastanza agile sono quattro ore che vi potete vedere spezzettate come preferite allora mi è piaciuta io ultimamente riesco a popparmi solo cose di true crime questo boh facciamo che ci rientri in qualche maniera mi è piaciuta per delle cose che non aveva detto Nick quindi mi permetto di aggiungerle adesso come ti permetti scusa Nick ti chiedo un scusa l'ho trovato uno spaccato iper affascinante dell'Italia anni 80 e 90 specialmente l'Italia televisiva cioè queste quattro puntate che non mi hanno fatto impazzire a livello di regia adesso ci arriviamo ma che comunque nel complesso mi sono piaciute ci sono zeppe di estratti di trasmissione appunto di film degli anni 80 primi 90 con personaggi televisivi che vanno da Magalli ai conduttori del TG di cui adesso francamente non ricordo neanche il nome quindi da questo punto di vista antropologico l'ho trovata veramente interessantissima non mi ha fatto impazzire a livello di narrazione regia specie nei primi due forse due episodi e mezzo perché avevo ogni tanto questa sensazione che buttasse specialmente all'inizio tantissima carne al fuoco e quindi spessissimo anche troppa e spesso quindi avevo questa sensazione di dire ok ma cioè quindi come siamo arrivati a questa cosa cosa mi sono perso cioè salta veramente tipo da che cacchio ne so vanna marchi fa la venditrice gli affari vanno benissimo i conti non tornano nell'azienda fallisce viene arrestata per traffico di stupefacenti e tu dici aspetta un attimo è vero che ho guardato un secondo il telefono ma cioè mi sono perso dei pezzi grossi c'è tutta una figura che è quella di Milva Magliano che c'è sono dei momenti WTF enormi perché è questa figura che sembra anche importante voglio dire nella storia di vanna marchi ma il fatto è che tipo lasciano parlare le dirette interessate appunto Milva Magliano vanna marchi stefania nobile e loro raccontano in una maniera frammentaria se vogliamo tipo quello che appunto è il loro punto di vista magari se ci fosse stata una voce narrante che mi dava la visione più complessiva hai capito e più ordinata degli eventi in alcuni momenti avrebbe aiutato ma nel complesso bello ora chiudo solo dicendo che ho trovato incredibili le due figure di vanna marchi appunto e stefania nobile wow sì perché sono allora c'è che vanna marchi sia una truffatrice totalmente riprovevole e sbagliata lo sappiamo c'era letteralmente una che ha rubato milioni e milioni delle vecchie lire da tipo alla pensionata debole e incapace di difendersi quindi sì ma se si è fatta rubare questi soldi se lo meritava evidentemente sta pensionaccia best momento delle quattro puntate un momento in cui dice questa cosa parafrasando ma sì ah lo dice davvero io non ho visto questa serie wow e lo diceva anche Nick quando ne parlava sì 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 a un certo punto lo dicono proprio tipo ah se si fanno fregare sono dei coglioni se lo meritano voglio dire però questa è la Vanna Marchi che conosciamo cioè lo sappiamo anche senza guardarci questa docuserie la cosa che invece non mi aspettavo è quanto specie le prime due puntate ti spingano a empatizzare con Vanna Marchi e Stefania Nobile perché dandoti anche da dove sono arrivate queste due persone specialmente Vanna Marchi che è classe 42 io pensavo fosse più giovane onestamente nata a Ozzano dell'Emilia che è un paesino X appunto in Emilia tipo vicino a Bologna e ti dà la figura di questa donna anche molto forte in un periodo in cui la società italiana era veramente iper misogina iper maschilista iper patriarcale e quindi c'era questa figura che comunque era di rottura e i primi episodi quando parlano del rapporto che aveva lei con l'ex marito tipo che era la classica cosa del tipo ah sì per lui la famiglia è importante però poi fondamentalmente è sempre via si fa i cazzi suoi va con tutte le donne che vuole tutta una serie di cose cioè ti dà uno spaccato di quell'Italia proprio a livello culturale e di moralità sensibilità che sembra un pianeta alieno cioè è l'altro ieri ma sembra una cosa lontanissima ed è ancora più interessante perché appunto ogni tanto questi aspetti culturali arrivano nell'ambiente televisivo c'è questa intervista incredibile di Stefania Nobile che va in questo salotto televisivo in cui c'è Pippo Baudo e c'è lei che racconta tipo ah sì tipo vedevo sempre mia mamma prendere le botte da suo marito cioè io lo odiavo questo qua e tant'è vero che a un certo punto ho preso io la decisione di buttarlo fuori di casa ora vero o no cioè quanto di vero ci sia in questa cosa è irrilevante ma tu Pippo Baudo hai davanti una persona che ti sta dicendo ah sì mia mamma viene continuamente picchiata da suo marito e la reazione di Pippo Baudo è del tipo eh però il padre è importante io vorrei che non avesse detto queste cose su suo padre cioè nel senso cosa? what? cosa? che cazzo di reazione è? e quindi appunto le prime due puntate ti fanno comunque empatizzare tra virgolette con la marchia e la nobile perché ti danno appunto tutti questi elementi che adesso ci sembrano fantascientifici ma che erano la realtà dell'Italia dell'altro ieri e probabilmente lo è ancora adesso in tutta in parte sicuramente sì però davvero super interessante mi spiace appunto solo per la narrazione che era un po' ogni tanto cioè o mi perdevo dei pezzi io o veramente il tessuto connettivo in alcuni momenti mancava completamente nel complesso però sette fette e mezzo di una quattro stagioni cioè nel senso iper scorrevole e poi quando si arriva al quid che appunto la marchi che lei con la figlia e Dona Simiento fa le truffe incredibile cioè tutto diventa super coeso ed è piacevolissimo da seguire piacevole per quanto sia ovviamente una situazione super sgradevole quindi sì sì Nick avevi ragione consiglia Torro per fortuna che queste cose non sono successe veramente esatto meno male che è un'opera di fantasia chiaramente tra l'altro è vero che sono bellissime le title card cioè le sigle iniziali graficamente eccetera io me le ricordo proprio come una cosa super piacevole dicevo tipo quanto è giusta questa roba e comunque cioè è incredibile quanto la marchi e la nobile cioè nel senso sembrano comunque iper genuine cioè delle persone delle persone spregevoli senza dubbio ma loro sembrano genuinamente credere a quello che stanno dicendo cioè non sembra che stiano recitando a soggetto ma infatti secondo me sono true persone spregevoli perché ci credono in quello che hanno fatto e che cioè nel senso secondo me la notte sono lì che si guardano e dicono ah lo stato italiano e la legge si sono prese beffe di noi cioè non è che hanno rimorsi in questa cosa il mondo complottava contro di noi cioè nel senso sono sempre gli altri ad avere torto e non è una mancanza di empatia a 360 gradi perché l'empatia per l'una per l'altra ne hanno fortissimo assolutamente però per tutte le altre persone assolutamente no e appunto quegli elementi culturali che dicevo prima puoi capire come magari ti possano far arrivare a un certo livello di sai io ho ragione tutti gli altri hanno torto io contro il mondo il che ovviamente non le scagiona però nel senso ti dà un'immagine più completa del personaggio bello davvero sì o tu sei il prossimo a guardarlo c'è poca azione quindi vai tra no mi state proprio facendo venire voglia di guardarla soprattutto ho una domanda velocissima è una di quelle cose che puoi guardare distrattamente mentre stai disegnando o devi guardarla con gli occhi anche ma io ti direi di sì cioè tanto più o meno la vicendona sai che cos'è e comunque i primi episodi hanno fatto le truffe cioè ti dico tanto comunque se ti sembra di perdere dei pezzi sappi che non è colpa tua che stai disegnando ma è proprio che nei primi due episodi salta da una roba all'altra con una velocità che è quasi disorientante è come quell'episodio ve lo ricordate Wild Wild Country ecco c'era un episodio che mi ricordo si concludeva con loro che dicono ah e quindi poi hanno drogato tutti senza tetto e si concludeva lì e tu dici ah cazzo mi spiegherà nella prossima puntata invece poi non tornavano più sull'argomento e dici sì ma avrà delle conseguenze con varie puntate dopo hai capito ma nel senso e quindi hai questa cosa che dici what cosa cosa è successo ecco quella sensazione che è la sensazione che ho ogni giorno pensando che ci sono delle persone che ci danno dei soldi anche quello è un momento WTF in effetti grazie a tutte le persone che ci supportano su www.datecideisoldi.com sottolineo www ovviamente esatto soprattutto www non funziona comunque sì non solo i calzoni che ogni giorno della nostra vita noi quando registriamo lo sentite anche voi ma ogni giorno a casa noi diciamo la lista dei calzoni esatto siamo da soli è una specie di preghiera diciamo un grazie ai calzoni e li elenchiamo i nostri vicini ci odiano perché lo diciamo urlando all'alba tutti i giorni molto prima dell'alba nel mio caso ma soprattutto non solo grazie a loro ma grazie a ogni persona che appunto ci supporta sul nostro Patreon perché Power Pizza è sostenibile ve lo ricordiamo ancora una volta grazie a voi e grazie all'orro che lo edita e che fa tutte le cose ma andiamo a ringraziare anche oggi i calzoni che sono questo livello di non dateci dei soldi punto com perché al massimo quello che possiamo fare è leggere il vostro nome in puntata e ora lo facciamo ma comunque ci chiediamo perché esatto c'è questa domanda che lingera tra l'altro questa settimana i calzoni erano armi letali sì abbiamo spesso di dirlo in puntata ma lo scriviamo comunque su Discord quindi non preoccupatevi ogni tanto ci ricorderemo di dirlo in puntata chi lo sa quindi grazie il faccione con l'acciaio di Hattori Hanzo non ho capito è Kill Bill sì Kill Bill ma il faccione boh boh ok grazie io sono la letale inserire qui una qualsiasi pizza voto di sono veramente letali grazie a la bomba ZAR o RDS220 big sasso io temo che sia un'arma vera grazie a Steven Seagal ultima settimana da calzone sed grazie a Steven Seagal una frase che nessuno ha mai detto nella vita reale nemmeno se stessa grazie a così letalò zambatustra con la sua arma all'etame ovvero guidare male è l'arma più pericolosa di tutte grazie a un foglio di carta nuova è effettivamente un'arma letale grazie di nuovo Steven Seagal sono due Steven Seagal entrambi con le parovic di Steven Seagal wow grazie Varg fine della frase grazie a sono un canico e sono magico wow beh aspetta un cane magico può essere letale cioè la magia può essere mortale la magia può uccidere facilmente esatto grazie Nicchi e Maesce Paolini Subramania sono letali con il loro sostegno in periduro è vero e grazie a nulla è più letale come arma di un paio di braccine flaccide che a tempo di corsa sflappano di qua e di là non hai messo l'accento su là però allora per me questo doppio grazie va a tempo perché nel senso la corsa iconica dei due Steven Seagal comunque presenti tra i calzoni è iconica nello scontrino trovate un video delle flaccidine a braccine Steven Seagal mentre corre è detto da uno che ha le braccia flaccide quindi dovrebbe solo stare zitto menzione speciale per me personalmente io amo le persone che riescono a prendere delle parole e renderle verbi quindi così letalo zambatustra per sempre nel cuore volevo dire che letalo è molto bello anche perché guidare male comunque può essere meno letale delle bombe ma io è la mia arma schiperita allora se vi va andiamo nell'after show perché vi devo parlare di street art ok sei il dottor Pira sì che bello fa Sam Furious allora io vi parlerò di applicazioni windows ok e anche per altri per altri dispositivi allora io non vi parlerò del fatto che Power Pizza Live al Comic Con di Napoli il primo di maggio alle ore 16 sala Italia i biglietti si prendono in loco il giorno stesso ci vediamo là c'è un ospite con noi c'è un ospite pizzaiolo che non è segreto perché Enrico Porzio celeberrimo pizzaiolo è segretissimo Enrico Porzio esatto non dite in giro che Enrico Porzio pizza e chiudo pizza e chiudo pizza e chiudo the show is over now visit our website www.unpodcast veramente bellissimo guarda ve lo consiglio proprio punto com